Benvenuti a Lega Informa, trasmissione settimanale che vi tiene informati. Abbiamo informati su quelle che sono le iniziative, gli aggiornamenti e le proposte dei consiglieri regionali della Lega. Quest'oggi, come gradito ospite, abbiamo Marco Casucci, che è anche vicepresidente del Consiglio. Benvenuto Marco. Allora, con te affrontiamo la questione riguardante gli agricoltori. Il mondo dell'agricoltura è molto importante in Italia, in Toscana. Gli agricoltori sono in subbuglio. Perché? Innanzitutto occorre tenere bene di conto che il settore agricolo e dell'agroalimentare resta il settore primario, il settore su cui poggia, su cui insiste l'economia italiana. È il nostro made in Italy, le nostre produzioni. Resta il fatto che da troppo tempo in Europa si porta avanti una politica, quella del Green Deal, che non è assolutamente in linea e confacente con le esigenze degli agricoltori italiani, i quali vanno incontro a una bassa remuneratività del loro lavoro. Troppi prodotti oggi non sono convenienti per quanto riguarda l'agricoltura italiana. I nostri agricoltori pagano una situazione intollerabile. Ecco perché sono scesi in piazza a protestare. Ecco perché li abbiamo visti bloccare addirittura le strade. Nei caselli, come il casello della 1 Bettolle-Valdichiana, vicino a casa mia e Cortona. Vivo molto da vicino questo malessere. Proprio per questo ho presentato un atto in Consiglio regionale che potesse spingere il Consiglio, la Giunta, a far sì che vi possa essere una nuova riprogrammazione delle politiche europee in materia di agricoltura contro il cosiddetto Green Deal. Ci rendiamo conto che si cerca di incentivare il consumo di carne sintetica. Ci rendiamo conto che si cerca in modo tale da aumentare il numero dei terreni incolti. Noi tutto questo lo riteniamo francamente una pazzia. Noi diciamo che l'Europa deve cambiare. Abbiamo la necessità di vedere cambiare l'Europa e di far tornare la nostra agricoltura una agricoltura che possa essere fonte di ricchezza per gli agricoltori i quali restano in troppi casi dei baluardi imprescindibili per conservare per tutelare il nostro territorio. E quindi noi siamo concretamente dalla loro parte. E diciamo che occorre far sì che vi sia anche un'attenzione diversa per quanto riguarda la gestione degli ungulati. Ma lo diciamo ormai da troppo tempo. La legge Remaschi si è dimostrata fondamentalmente una legge non capace di incidere sul numero di ungulati che continuano a produrre danni alla nostra agricoltura e in generale costituiscono anche fonte di pericolo sulle nostre strade. In più non potrei che citare il problema delle aggressioni dei lupi che rimane un problema molto serio e che si è sentito anche da poco nella mia provincia, la provincia di Arezzo, dove allevatori esasperati hanno addirittura portato delle carcasse in piazza Guido Monico in piano centro di Arezzo. Proprio per dire la loro rabbia. Noi diciamo che vanno individuate delle soluzioni. Ed è per questo che da anni, in modo coerente, in modo continuo, in modo importante portiamo degli atti in Consiglio regionale. consideriamo però che non sempre la Giunta, non sempre la maggioranza di centro-sinistra sono chiari sotto questo profilo, perché pagano un ideologismo ambientale, un ideologismo di sinistra che continua a produrre dei danni nel nostro Paese. Ecco, non si trovano soluzioni proprio anche per questa questione delle predazioni. Che cosa si potrebbe fare di più e si dovrebbe fare? Credo che si debbano individuare delle soluzioni plausibili. Laddove si eccede il numero di lupi che vi sono in un determinato territorio si può cominciare a pensare a trasportarli in altri luoghi. Questo è quello che continuo a proporre. Di certo nessuno di noi è per dire di puntare al lupo. Questo no, però neanche di dire all'agricoltore smetti di allevare, smetti di produrre perché ci sono gli ungolati e perché ci sono i lupi. Noi vediamo estese territoriali molto grandi anche in provincia di Arezzo che sono praticamente sotto la cura, sotto la tutela dei soli agricoltori e dei soli allevatori. Per me un agricoltore e un allevatore costituisce un presidio di sicurezza per quel territorio. Io sarò sempre dalla loro parte. La normativa europea deve cambiare, con essa deve cambiare anche la normativa italiana e ci vuole finalmente un piano lupi per la gestione dei lupi nella nostra regione e nel nostro paese. Anche gli allevatori non dormono sonni tranquilli. È così specialmente in determinate zone della Toscana? Da ultimo ho portato il tema della chianina. Quello che è successo per la chianina negli ultimi dieci anni nella nostra regione è di fatto equiparabile a uno tsunami perché si è praticamente diminuita in modo consistente il numero degli allevatori. Siamo passati sopra le 500 aziende a meno di 400 aziende. Da 18 mila capi di chianina si è passati a 15 mila capi di chianina. Noi diciamo che ci vuole una normativa più stringente. Chiede ai cittadini se sappiano che per fare un hamburger dichiarato di carne chianina basta il 20% di chianina. Io credo che questo sia un dato che debba indurre tutti alla riflessione perché inevitabilmente si va incontro alla svalutazione. Ci sono zone come la mia Val di Chiana, come la mia Cortona che tutto questo lo pagano concretamente sulla pelle degli agricoltori e degli allevatori. E questo assolutamente non va bene. Noi diciamo che occorrono trovare delle soluzioni come, ripeto, normative più stringenti, maggiori risorse per il consorzio di tutela della razza del bitellone bianco dell'Apennione centrale. e abbiamo necessità di insistere sotto questo profilo proprio perché non si fa mai troppo per difendere e per promuovere la nostra agricoltura che si interseca, si caratterizza per il nostro stesso paesaggio. Cominciamo a riflettere quello che potrebbe essere il paesaggio toscano senza lo stesso numero di piante di olivo, senza lo stesso numero di vigneti. Dobbiamo capire che agricoltura e paesaggio sono assolutamente intrecciati e che l'impegno per l'agricoltura per rendere di nuovo remunerativa l'attività degli agricoltori e degli allevatori, di tutti, di tutti quelli che ruotano intorno al settore primario, è inevitabile anche per difendere davvero e non in modo, diciamo, astratto, ideologizzante, il nostro ambiente. Quindi la Regione che cosa può fare per aiutare gli allevatori in questo caso? La Regione assolutamente deve cominciare a trovare le risorse adeguate per far sì che vi possano essere dei bandi a sostegno dell'agricoltura, quella reale. Non soltanto delle misure di bandiera, ma delle misure che possono incidere concretamente per fare ripartire e mettere in moto la macchina dell'agricoltura. Questo naturalmente insieme con lo Stato, perché non ci esoneriamo da responsabilità, siamo al Governo e noi continueremo a sollecitare anche il Governo nazionale a far sì che vi possano essere delle misure appropriate. L'agricoltura paga il gap di mancata attenzione negli ultimi anni, tranne qualche eccezione che si è data concretamente da fare. Io ricordo uno su tutti, il Ministro dell'Agricoltura Zaia, con il quale si è difesa gran parte anche dell'economia toscana. Da allora poche eccezioni, ma non c'è stata una grande cura per l'agricoltura italiana. Invece noi riteniamo il settore assolutamente da difendere. Vitigni, olivicoltura, com'è la situazione? La situazione è che occorre sempre spingere per quanto riguarda la creazione oppure il sostegno dei marchi laddove già ci siano, per far sì che vi possa essere la debita attenzione anche per l'olio. L'olio è uno dei nostri tesori che dobbiamo difendere, dobbiamo promuovere nel mondo. Io vedo tanti piccoli agricoltori che vendono a fatica il proprio olio, quando in realtà poi lo stesso olio, riusciti ad entrare nei canali giusti di distribuzione, si riesce a vendere a tutt'altra cifra. Lo vedo anche per la mia cortona. È necessario far sì che vi possa essere una uguale considerazione per tutti i produttori, per tutti coloro che sono sul mercato. Cerchiamo di unire le nostre forze istituzionalmente, di essere vicini e di essere incisivi. Il vino è uno dei nostri motori, dobbiamo essere molto soddisfatti di come sta andando per la nostra Toscana la produzione di vino e quanto la Toscana si lega nel mondo al vino che produciamo. Abbiamo tra i più grandi vini al mondo. Ciò non toglie che per certe zone bisogna portare avanti un lavoro sempre di promozione del prodotto. Io vedo quello che è stato fatto negli ultimi anni a Cortona per il Sirà. Cortona anni fa non aveva una tradizione analoga a Montepulciano e a altri comuni limitrofi. Oggi lentamente, gradualmente, con il lavoro di tutte le istituzioni riusciamo a far sì che vi possa essere per il Sirà di Cortona che si lega anche alla Chianina veramente un'attenzione maggiore. Bene, grazie a Marco Casucci, grazie a voi per averci seguito. Alla prossima settimana. Grazie a tutti.